Formalmente indagato, in pratica rilasciato, dopo aver trascorso un giorno e mezzo in questura perché nulla negli accertamenti svolti sinora porta a lui, se non fosse stato per quella felpa rossa e per il cappellino simile a quelli indossati dall'uomo fotografato mentre scappava dalla villetta di Caterina Susca, il trentenne ganese in questa indagine non sarebbe mai entrato. L'iscrizione nel fascicolo aperto per omicidio volontario è un atto formale, dovevano prelevargli il DNA, sequestrare un paio di telefonini per il sospetto che uno dei due fosse della vittima e nelle prossime ore il medico legale farà all'autopsia un atto irripetibile per il quale la legge prevede la nomina di consulenti. Ma al di là di questo i sospetti sul trentenne ganese si diradano sempre più col passare delle ore. Gli inquirenti tornano a cercare l'uomo della foto scattata dai vicini e analizzano tutti i tasselli di un puzzle difficile da ricomporre. La porta di casa, quando sono arrivati i primi soccorritori, era chiusa a doppia mandata con le chiavi nella toppe esterna. L'assassino si è preoccupato di chiuderla, ma sulla chiave non ci sono impronte utili perché i soccorritori hanno sovrapposto le loro. Anche nel soggiorno ci sono solo frammenti di impronte, tranne una che sinora non ha portato a nulla. Resta la speranza di trovare tracce di DNA. Per questo sarà importante l'autopsia che dovrà stabilire se, come sospettano gli investigatori, ci sia stata anche violenza sessuale sul corpo martoriato della casalinga. Ci sarebbero lesioni che fanno pensare a un'arma da taglio, elementi che spostano l'attenzione dalla rapina all'aggressione sessuale. Forse Caterina Susca è stata seguita, forse il suo assassino l'ha avvicinata con una scusa prima di diventare violento. Questo spiegherebbe almeno in parte perché i vicini non hanno sentito nulla.